Corri, raccogli la base, ed il pubblico corre con te, non sei solo nei grandi amanti, corre il cuore, la gente e le sport. Amici del softball, una buonasera a tutti, non è riuscito il colpaccio all'area Vendors Caronno che ha perso il doppio confronto nel derby con Bollate, più rammarico o più orgoglio per la prestazione? Lo chiediamo subito a Giorgio Turconi. Ciao Giorgio. Sì, ciao a te Mattia, salutiamo gli telespettatori. Rammarico, certo, quando si perdono due partite al tie-break con Bollate, capolista in battuta, un po' di rammarico c'è, ma c'è anche la consapevolezza che l'area ha fatto due grandi gare contro una squadra molto forte. E allora, prima di addentrarci nell'analisi tecnica della partita dell'area, facciamo però il punto sul campionato. Punto sul campionato è presto fatto. Prima giornata di ritorno nel Girone A, Collecchio, vince due partite con Nuoro, ma con una certa fatica. Nuoro si è rinforzato con alcune straniere, quindi da qui in avanti non sarà facile giocare con la squadra sarda. Saronno divide la posta con Parma, 2-1 per Saronno, 0-1-0 per Parma, due gare molto tirate, e che vedono a questo punto la classifica del Girone 1 con Bollate, saldamente in testa imbattuto, a secondo posto con Collecchio e Caronno che se la giocheranno per un posto di play-off. Con Saronno però sempre pronto a rientrare, mentre nelle retrovie abbiamo Parma e Nuoro. Torniamo però al Francesco Nespoli, perché si sono giocate veramente due partite spettacolari, grande pubblico. Insomma, davvero un peccato per l'area, però ha fatto davvero tutto quello che si poteva fare. Sicuramente, noi abbiamo fatto il possibile tentando anche l'impossibile. Abbiamo giocato due grandi gare, soprattutto gara 2 in cui abbiamo giocato con le nostre lanciatrici italiane opposte a una Sara Poli che è un'atleta di valore mondiale. Siamo stati vicinissimi a Bollate e questo fa ben sperare per tentare di arrivare ai play-off che sarebbero un risultato veramente importante per la stagione. E allora godiamoci lo spettacolo di Carono Bollate. A te Giorgio. Bene, ed eccoci in gara 1, opposte in pedana Michelle Floyd per la Revendo Scaronno e Greta Cecchetti per Bollate. Greta Cecchetti, atleta lanciatrice italiana, probabilmente l'unica di valore veramente mondiale che l'Italia può schierare, sarà un duello indubbiamente interessante. Talmente interessante che per sette riprese in pratica succede poco o nulla. Il punteggio è fermo sullo 0 a 0 al termine delle sette riprese regolamentari e si arriva al tie-break e quindi cominciamo a vedere le immagini a questo punto con il primo attacco del tie-break. Ecco Michelle Floyd in pedana. Con il corridore in seconda, Laura Bigaton, una smorzata, viene eliminata in prima e porta Chiodaroli, il corridore che partiva dalla seconda base, in terza. A questo punto il Caronno opta per riempire le basi con due basi intenzionali perché in caso di battuta in diamante il gioco a casa per fermare il punto sarà più semplice in quanto sarà sufficiente toccare il piatto di casa base per eliminazione anziché toccare il corridore. Questo veramente fa la differenza negli arrivi stretti. Siamo a basi piene, non ci sono eliminati, come vedete dalla grafica e in battuta si presenta Alice Parisi che piazza una battuta vincente sull'esterno sinistro. A questo punto entra il primo punto sulla battuta e il secondo punto sul rilancio a casa base e quindi Bollate segna subito due punti con questa bella battuta di Alice Parisi. Corridore ancora in seconda e terza, un eliminato e in battuta si presenta ora Elisa Cecchetti. C'è una trappola che nel frattempo che non riesce ma una successiva azione meravigliosa da parte di Beatrice Salvioni, avete visto l'azione, c'è stata una trappola sulla terza base, poi il tiro a seconda base che rientrava per spingere avanti obbligatoriamente i due corridori e sulla corsa a casa base un magnifico tiro preciso di Salvioni che ha ottenuto l'eliminazione a casa base. Poi Elisa Cecchetti batte ancora una battuta vincente ed entra ancora un punto per Bollate che si porta a questo punto sul parziale di 4-0 nella prima parte di questa settima ripresa. Il tie-break generalmente riserva poche segnature ma questa volta Bollate è riuscita a portare a 4 le segnature. Poi c'è l'ultima eliminazione al volo di Lara Buila e la ripresa in attacco di Bollate termina qui. Sarà difficile per la Riavendo Scaronno cercare di ribaltare il risultato che parte con un differenziale di 4 punti. Nel tie-break caronnese abbiamo Melanie Sheldon sul sacchetto di seconda e Francesca Rossini nel box di battuta. Vedete Melanie Sheldon che si avvia a prendere posizione sul sacchetto e la mancina Francesca Rossini nel box di battuta. È una bella valida di Rossini sull'esterno sinistro che spinge avanti il corridore e vedete nella grafica corridori agli angoli e in battuta Susanna Todeschini. Viene intanto a correre la giovane e velocissima Rebecca Caldon per Rossini ed ecco Susi Todeschini nel box di battuta. Greta Cecchetti in pedana c'è un colpito sul battitore e quindi basi piene anche per Caronno con zero eliminati e Beatrice Salvioni nel box di battuta. battuta interna in diamante, riesce l'eliminazione forzata a casa base come si diceva prima, basi piene, è sufficiente che il ricevitore tocchi il piatto di casa base con la palla nel guanto per determinare l'eliminazione del corridore. non riesce il secondo eliminato in prima, quindi siamo ancora... e a questo punto c'è una base intenzionale a Giurubi Alicart Bollate preferisce subire un punto dando la base intenzionale ad Alicart piuttosto che consentire alla forte giocatrice venezuelana di battere. questo comportamento a noi sembra un pochettino ai limiti perché un conto è dare una base intenzionale per caricare le basi e facilitare il gioco della difesa ma dare una base intenzionale subendo un punto solo per non far giocare un battitore avversario a nostro parere eccede un pochettino quelli che sono i limiti della deontologia sportiva anche se naturalmente l'azione è del tutto legittima. Caronno in questo attacco segnerà ben tre punti che la porteranno molto vicina al risultato con Bollate ma Bollate alla fine prevale per 4-3 in gara 1. Una bella frecciatina tirata Bollate, come mai? Ma poi vedrete, lo riprendiamo anche nelle interviste la base intenzionale fa parte del gioco naturalmente è una scelta tecnica legittima secondo me ci sono dei casi in cui però è un pochettino, va al limite di quello che si dovrebbe fare. Nei derby vale praticamente tutto seconda partita forse ancora più beffarda della prima. Caronno inizia schierando Giulia Bollini in pedana ecco Giulia Bollini partente Bollate spesso ha subito un po' i suoi lanci Lidoff a manda fama ma su questo primo lancio della gara piazza una battuta lunghissima ed è un fuoricampo per la forte giocatrice italo-americana e Bollate segna subito punto sul primo lancio di questa seconda partita. è un inizio molto incisivo da parte di Bollate vediamo Amanda Fama festeggiata siamo a questo punto ancora in difesa per l'area vendo Scaronno nel frattempo è salita e vedete ancora Giulia Bollini Baseball concessa l'Arabuila poi in battuta abbiamo Linda Leonesio gira a vuoto ma c'è la rubata di Buila che vediamo sul sacchetto di seconda base poi c'è un tentativo di bloccare il corridore il tiro non è preciso e l'Arabuila ruba prima la seconda base e poi riesce ad arrivare salva in terza battuta in diamante di Linda Leonesio eliminazione in prima poi con la palla della prima base il corridore è fuori ma il tiro è in terza e ne approfitta il corridore per andare a segnare la seconda segnatura per Bollate in gara 2 2-0 il parziale per Bollate nel secondo inning e siamo adesso alla prima parte della sesta ripresa è salita in pedana per Caronno Silvia Durot poi l'Arabuila una rimbalzante raccoglie il lanciatore per eliminazione in prima e poi un'ottima assistenza del prima base sulla terza che completa la seconda eliminazione e passiamo alla seconda parte della sesta ripresa in battuta abbiamo Giulia Fiorentini che piazza una bella valida sulla sinistra ecco Giulia Fiorentini numero 20 Caronnese sul sacchetto di prima base seguita da Melanie Sheldon ed è una valida anche per Melanie Sheldon corridori in prima e seconda vediamo dalla grafica con uno eliminato e al posto di Giulia Bertani va a battere Michelle Floyd una battuta violentissima di Floyd che picchia sul sacchetto di seconda e arriva oltre all'esterno e che consente due segnature Caronnesi ecco è un doppio per Floyd e su questa azione Caronno impatta la gara 2-2 il risultato parziale al termine della sesta ripresa nulla succede nel frattempo e sul 2-2 inizia il tie break alla nona ripresa abbiamo in corridori in seconda Elisa Cecchetti c'è questa palla mancata che consente a Cecchetti di arrivare in terza poi la battuta in diamante di Lara Buila eliminata in prima il corridore non può muoversi il cambio di Floyd che abbiamo visto prima a battere per Giulia Bertani ha poi portato la necessità di schierare un altro ricevitore vedete che adesso la bionda Elisa Bianchi giovane ricevitore caronnese sta ricevendo Floyd che è ritornata in pedana pur avendo effettuato 21 eliminati in gara 1 ma il tie break neutralizza il numero di riprese che si possono lanciare ancora Caronno opta per due basi intenzionali per chiudere a casa base obbligata e rendere difficile la segnatura Sara Kamisaska è strike out abbiamo due eliminati basi piene e corridore in terza e in battuta Laura Bigaton questo finale si presenta sempre teso ed emozionante come sono tutti i tie break palla fuori e su questa azione ecco la grande rubata di Elisa Cecchetti che approfitta di una distrazione del ricevitore e non si accorge che il corridore è rimasto fuori dalla base e il corridore sul rilancio del ricevitore al lanciatore corre verso casa base il tiro a casa non riesce a fermare il punto e quindi bollate sblocca ecco vediamo a rallenty bella scivolata il ricevitore non riesce a toccare il corridore prima che segni e quindi bollate passa in testa e la partita terminerà con il punteggio di 3 a 2 per bollate Caronno non riesce a sbloccare le segnature al suo nono tie break e quindi punteggio finale bollate 3 Caronno 2 Giorgio più un errore tecnico tattico questa palla rubata o un errore di esperienza è un errore di esperienza guarda a me è capitato conducendo la squadra in campo di vincere partite in questa maniera me ne ricordo una in cui c'era la sorella di Melanie Sheldon Kelly in terza un buon debutto tra l'altro un buon debutto per lei a Legnano era un finale molto teso ho chiesto la grande rubata e abbiamo vinto quindi fa parte del gioco quando ci si accorge che il ricevitore non sta guardando bene in terza si può tentare nei finali tesi questa soluzione e allora diciamo una sconfitta una palla rubata che servirà soprattutto per il futuro è arrivato il momento delle interviste è intervistato per noi due allenatori con qualche siparietto ed eccoci a questo finale di gara derby della Varesina Caronno Bollate vinto da Bollate due partite al tie break a parte la sequenza di tie break che oramai costituiscono un record abbiamo con noi Luigi Soldi manager del Bollate squadra in testa in battuta io però ho una domanda un po' cattivella per Luigi ce l'ho ed è questa Bollate è uno squadrone punta allo scudetto non ha ancora perso una partita credo che dovrebbe usare meno disinvoltamente la base intenzionale misurandosi con gli avversari specie in queste gare che non sono decisive no assolutamente la base intenzionale va data a ragione veduta io Rubi è una giocatrice forte a livello mondiale quindi non vedo perché non avremmo dovuto dargliela a questo punto ti voglio chiedere due cose un giudizio sul Caronno come abbiamo fatto lo scorso anno e ci ha portato bene e poi soprattutto un obiettivo qual è l'obiettivo di Bollate per quest'anno visto che ha una pedana veramente spettacolare per quanto riguarda Caronno sicuramente ha fatto due ottime partite se no non saremmo andati al tie break abbiamo sfruttato in gara 2 l'inesperienza del ricevitore che giustamente deve fare le sue partite prima di arrivare a dei buoni livelli avendo fatto tutto il girone d'andata non mi sembra di aver visto una squadra superiore al Caronno quindi metterei dei soldi su Caronno nei playoff ti ringrazio speriamo che gli auguri ci portino bene come è stato l'anno scorso e soprattutto auguri a Bollate per la Coppa che quest'anno speriamo sia la volta buona che porti finalmente una Coppa Europea a Bollate che se lo merita esatto infatti per quanto riguarda i nostri obiettivi la Coppa Europea è sicuramente il nostro obiettivo della Stato di Giove non che lo scodetto sia secondario però se dovessimo scegliere sicuramente la Coppa sarebbe quello che vogliamo ce l'auguriamo anche noi e quindi auguri a Luigi al Bollate grazie e complimenti per la partita e chiudiamo le interviste di questo derby con Bollate con Argenis Blanco i risultati direbbero che questa sera noi siamo stati molto vicini a Bollate ma il mio giudizio tecnico è che Bollate invece nettamente è superiore a noi anche se abbiamo fatto due tie break certo certo io penso che la Pedanale il Bollate è sempre difficile ma sempre penso che la nostra squadra è molto coraggiosa perché noi queste due partite di oggi abbiamo dimostrato carattere entusiasmo qualità e specialmente la seconda di più nonostante questo abbiamo rimontato e abbiamo messo un po' la squadra grazie al cambio il che c'è non era il titolare però capitano per il cambio per la rimonta sono stato molto satisfatto certo che il Bollate è una grande squadra adesso inizia il nostro campionato inizia da adesso in avanti e quindi vediamo di fare risultati con le squadre che abbiamo dietro adesso il discorso finale del meeting finale della partita era ormai abbiamo giocato con Bollate sei volte ci siamo allenati alla grande con tensione adesso inizia il nostro campionato con le altre squadre Parma con queste cose che sono quelli che penso che faremo le grandi partite per vedere dove arriviamo parlo da tecnico più che da intervistatore credo che i playoff siano la portata del Caronno ma bisognerà giocare veramente molto molto bene e auguriamo alla squadra di essere all'altezza della situazione e salutiamo i telespettatori di Rete 55 Allora siamo in chiusura anche di questo appuntamento noi ci rivedremo giovedì 28 giugno sempre qui su Rete 55 sempre alle 21 per raccontare la gara contro Collecchio che a questo punto sarà decisiva per il secondo posto nel campionato e allora è davvero tutto e come sempre viva la Rea ciao